benvenuti al tg list della giunta regionale della basilicata la task force regionale comunica che ieri 30 settembre sono stati processati 939 tamponi per la ricerca di contagio da covid-19 di cui 33 sono risultati positivi le positività riscontrate sono così distribuite 11 persone residenti a venusa una a sant'arcangelo due a marsico nuovo due a marsico vetere tre a sasso di castalda una a matera una a pesco pagano una a vigiano due persone residenti in campania e lì in isolamento una persona residente a melfi una a gorgoglione una a forenza tre persone residenti a moliterno di cui una domiciliata a brienza una persona residente a brienza una persona residente a tramutola e una a sarconi nella stessa giornata è stata registrata la guarigione di due persone una residente a potenza e l'altra residente nel comune di sant'angelo le fratte i lucani attualmente positivi sono 258 di cui 248 in isolamento domiciliare sono 13 i ricoverati nelle strutture ospedaliere lucane a potenza sette persone tra cui un guarito in attesa di dimissioni sono ricoverate nel reparto di malattie infettive del san carlo a matera quattro persone si trovano nel reparto di malattie infettive tra cui una guarita in attesa di dimissioni e due persone tra cui un guarito ancora ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale madonna delle grazie ai positivi vanno aggiunti nel complesso 29 persone decedute 409 guariti un cittadino campano in isolamento a lavello un cittadino calabrese in isolamento a lavello una persona di nazionalità estera diagnosticata in puglia in isolamento a matera 43 persone residenti in altre regioni o provenienti da stato estero e in isolamento in basilicata dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono stati analizzati 73 mila 975 tamponi di cui 73 mila 142 risultati negativi il prossimo aggiornamento domani 2 ottobre alle ore 12